buongiorno a tutti oggi ci troviamo a pochi passi dal centro città di Bari precisamente in via crisanzio in uno stabile con ascensore e vi presentiamo un ampio appartamento di tre vani posto al terzo piano appena avarcata la porta principale con pavimento a cementine decorate sarete accolti da un ampio ingresso uno spazioso soggiorno ideale per momenti di relax e intrattenimento l'appartamento dispone di due vani letto e le camere sono ben illuminate e accoglienti proseguendo troviamo una cucina abitabile un cucinino ed ancora un ampio bagno il punto forte di questa proprietà è il suo ampio terrazzo di circa 50 metri quadri dove potrete godere di splendide giornate all'aperto organizzare cene feste o semplicemente rilassarvi al sole non perdete questa fantastica soluzione prenotate subito un appuntamento saremo lieti di accogliervi in questa splendida casa ciao alla prossima